Musica Ciao a tutti Allora innanzitutto vi faccio tanti auguri di buon anno Vi auguro che tutto quello che vogliate Comunque dei vostri desideri, dei vostri sogni si possano avverare E poi volevo fare, vabbè innanzitutto lo sfondo è nuovo Perché c'è lo sfondo che mi aveva fatto la mia sorellonza E quindi con il nuovo anno lo sfondo sarà questo Poi volevo provare a fare una nuova tipologia di video Uno per quanto riguarda l'agenda, la decorazione dell'agenda E un altro invece è Mi piacerebbe provare a fare Tempo permettendo i bambini, permettendo Perché sapete che io ho sempre i miei figli in casa Quindi devo trovare proprio il momento giusto In cui non vengo disturbata Dei video ASMR Se non sbaglio si chiamano Quelli che vengono parlati sottovoce Trovare magari, che ne so, un libro di favole E magari leggervi una favola sottovoce Facendo questo rumore che a me rilassa tantissimo Io vedo dei video ASMR Dove appunto parlano, magari leggono a bassa voce Scusate ma sono anche un po' raffreddata E mi rilassano tantissimo Soprattutto quando fanno questo rumore così Quando sfogliano le pagine dei fogli Comunque quando ci sono anche rumori in mezzo Oltre al fatto di parlare a bassa voce Mi piacciono tantissimo Quindi se vi può interessare Me lo fate sapere magari sotto nei commenti Così proviamo a fare una prova Allora stavo dicendo Ho dovuto interrompere un attimo Volevo, io l'ho già decorata l'agenda Per un semplice motivo Perché mi piacerebbe fare anche a me dei play with me Il problema qual è? È che io non sono capace Siccome sapete che io faccio i video E poi li carico con il cellulare Non so se c'è la, come si dice Quella cosa praticamente che fa velocizzare i video E anche se ci fosse Io non la so usare Quindi se io mi metto a decorare l'agenda Con voi verrebbe un video comunque lungo E dato che io non vi voglio annoiare Preferisco decorarla io prima E poi al massimo Come magari faccio adesso Farvi vedere che tipo di decorazione ho fatto Allora questa come stavo dicendo prima È la mia nuova agenda Quella che mi sono fatta fare da Francesca Del canale Nell'Art Franci Quindi l'apriamo E andiamo subito direttamente Alla prima settimana Che è questa Allora intanto tolgo Il segnapagina un attimo Ecco questa è la mia decorazione Qua per dividere un pochino Ho messo degli strass Poi ho messo questo washi Che era della Lidl Qua rosa E qualche stickers Che avevo delle principesse Sempre che avevo preso da Si chiama sempre dalla Lidl E niente E poi ho scritto le mie varie Le mie varie cose Tra l'altro mi sono ricordata Che giovedì 4 Quindi se interessa anche a voi No così è troppo Che giovedì 4 Ci sono Adesso lo andiamo anche a scrivere insieme Scrivo un attimo Metto un attimo da parte dell'agenda Che colore uso Che colore uso Il viola Il viola dai Qua ho usato il Cuxia Cioè praticamente Alla Lidl Ci sono tutte le cose Tutti gli articoli Cartopazzosi Che piacciono tanto a noi Cartopazze Quindi Scriviamo qui Allora Allora Acquisti Lidl Cancelleria E poi sotto Ovviamente ci scrivo Fare Video Call Poi io Siccome non mi piace così Li ripasso un po' In modo da farla venire Una scritta un pochino Più carina Ok E Niente che dire Ancora Quindi giovedì Appunto Andrò A fare Questi acquisti Andremo io adesso Insieme Perché come abbiamo visto il catalogo Ci si sono Illuminati gli occhi Credo che andremo Se riusciamo di mattina Presto Quasi appena apre Così almeno siamo sicuri Di riuscire a trovare tutto Perché sapete che quando c'è Qualcosa di Cancelleria Cartopazzo Alla Lidl Vanno praticamente a ruba E quindi per non farci Scappare niente Andremo Quindi Qui ovviamente farò il video E poi non l'ho scritto Ma ovviamente lo Ve lo monterò No? Se non sarà giovedì Sarà venerdì Che lo vedrete Allora Ok Ok Quindi ho scritto anche questa cosa con voi Niente Non voglio fare un video troppo lungo Mettiamo il nostro segna pagina Questa È appunto la mia Decorazione Io spero che vi piaccia E E niente Se vi va Ci rivediamo un prossimo video Fatemi sapere appunto Se vi possono piacere Queste tipologie di video Sia video agenda Che I video Quelli Parlati sotto voce ASMR Vi mando Vi mando Un bacio grandissimo Se non siete iscritti Iscrivetevi Se vi è piaciuto il video Fatemelo sapere Con un like E niente Ci vediamo alla prossima Un bacio Ciao ciao Ciao